Sotto una pioggia torrenziale è arrivata la seconda sconfitta consecutiva per l'Accademia Trapani che nonostante la doppia inferiorità numerica per le espulsioni di Minaudo e Nicola Culcasi era riuscita a pareggiare grazie al rigore siglato al 79esimo Davito Cosenza. Il punteggio si era sbloccato grazie alla firma di Scarcella, abile a insaccare su situazione di calcio d'angolo in mischia. Nel finale, all'86esimo, il sorpasso definitivo degli ospiti con Barraco che si ritrova tu per tu con Mistretta, battuto per la seconda volta. In pieno recupero, vehementi proteste di Parisi e compagni per un gol ingiustamente annullato a Federico Nolfo che aveva insaccato il pallone alle spalle di Volpetti anticipandolo. L'Accademia resta al secondo posto a 27 punti, domenica la trasferta sul campo del Salemi.